Will Funzione pubblica. Denuncia l'azzeramento della pediatria di Verbania e dell'ortopedia di Domodossola per fuga dei dirigenti medici in servizio. In un comunicato il sindacato comunica di aver appreso che, il direttore della pediatria di Verbania, peraltro già dirigente medico della stessa da anni e da anni sostituto del direttore andato in pensione, non ha superato il periodo di prova e pertanto ha rassegnato le dimissioni. Quasi sicuramente anche... Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.